Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Sono qui per mostrarvi due prodotti interessanti. Mi sono stati dati dai Clever, lo sto utilizzando ormai da tempo e mi sembra giusto mostrarvi perché sono quei gadget che possono essere fonte di ispirazione quando magari cerchiamo un regalino da fare a qualcuno o comunque un prodotto interessante da poter acquistare. Il primo è una dock type C, quindi ingresso type C, tre uscite USB e un ingresso type C. Per cosa la uso? La uso sia per il mio Mac, quindi per avere tre porte USB, quando mi serve magari condividere alcune informazioni con altri dispositivi, al posto di utilizzare la dock che ha mille cose utilizzo questa che invece mi dà giusto tre porte USB e la type C per la ricarica. e devo dire che l'ho trovata molto comoda perché permette veramente di agganciare qualsiasi tipo di dispositivo. Quindi per esempio se stiamo utilizzando un hard disk esterno, una chiavetta USB e stiamo ricaricando il nostro telefono, questa dock è assolutamente ottima. Metterò il link in descrizione per l'acquisto, ma è anche ottima per che cosa? Per gli smartphone, perché io per tutti i dispositivi type C utilizzo questa dock per andare magari a inserire una chiavetta e scambiare informazioni con il mio dispositivo mobile. L'altro prodotto invece è sempre molto interessante e mi ha colpito tanto perché è quel prodotto secondo me indispensabile per quando si va via per tanti giorni e non si ha la certezza di avere una fonte di elettricità sicura a cui attaccare il nostro caricatore e quindi andare a dare un'alimentata e una caricata al nostro smartphone. Ed è questa. È praticamente una USB station veramente multifunzione perché abbiamo sia la radio, come potete vedere, quindi possiamo andare a impostare le varie cose e abbiamo lo speaker posto qua e potremo andare tranquillamente a sentire la radio. Al suo interno c'è una batteria da 10.000 mAh, se non erro, che può essere anche alimentata e quindi caricata tramite induzione solare. Quindi basterà tenere sul cruscotto della nostra auto questo caricatore e con il sole d'estate si caricherà assolutamente. Abbiamo il pulsante accensione della torcia, quindi potremo andare, come vedete, ad accendere la torcia e devo dire che è abbastanza potente e questo ci permetterà anche di andare a fare le nostre scampagnate durante le serate, quindi per muoverci magari all'interno di un campeggio. E poi l'altra cosa veramente interessante è la manovella, perché nel caso in cui piova non ci sia la luce per ricaricarlo, non abbiamo l'elettricità per attaccarlo alla micro usb e quindi per ricaricare il power bank all'interno di questo accessorio potremo andare di polso e quindi iniziare a girare la nostra manovella e andare così a caricare la batteria che sta all'interno di questo power bank. Insomma, secondo me è un dispositivo veramente interessante perché vi permetterà di avere compagnia con una radio. Luce nel caso in cui vi muovete la sera, state cercando qualcosa in macchina e non lo trovate. Ovviamente per la radio c'è anche l'antennina che potrete andare a allungare e indirizzare per avere un segnale migliore e avrete poi anche la possibilità di caricarlo non solo tramite un apparecchio elettronico ma anche tramite sole e manovella. Ovviamente essendo un power bank ha anche un'uscita usb che permetterà di ricaricare il vostro smartphone in tutta libertà e tranquillità. Insomma, due prodotti che mi sono stati forniti dai Clever, due prodotti che ho trovato davvero molto interessanti e che vi consiglio. Il link li troverete in descrizione per l'acquisto, io ringrazio ancora iClever, ciao a tutti ragazzi da Daniele per Spazio Hightech.